la politica in primo piano. La maggioranza è divisa sul tema delicatissimo della conferma del blocco dei licenziamenti così come chiedono i sindacati. Oggi Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi proprio il leader della CGL Landini. Il sindacato però resta contrario all'ultima proposta caldeggiata da PD e Lega, quella di proroghe selettive. Lungo incontro tra il premier e il leader della CGL Landini che ha ricevuto anche il cordoglio di Draghi per la scomparsa di Guglielmo Epifani. Al centro del faccia a faccia uno scambio di punti di vista sull'endamento dell'economia italiana ed europea stressata dall'emergenza Covid. Al termine una nota ufficiale informa che non c'è alcun accordo sulla nuova proposta per un blocco dei licenziamenti per tutti avanzata dalla CGL in contrapposizione alle opposizioni della Confindustria e contro quanto stabilito dal decreto sostegni e bis appena approvato dalla Camera. Il decreto che prevede il divieto dei licenziamenti per le aziende che beneficino di cassa integrazione senza dizionali finanziate dal Governo e lo sblocco invece per i settori non in crisi come edilizia e manifattura. Landini però continua a dire no a queste misure e ribadisce anche la sua contrarietà alle aperture arrivate sia dal PD sia dalla Lega che puntano ad una proroga selettiva del blocco dei licenziamenti solo per i settori difficoltà, abbigliamento, calzature e moda. Per questo il Presidente del Consiglio ha voluto confrontarsi direttamente con il leader della CGL e verificare una sua eventuale disponibilità verso un nuovo compromesso. Fonti del Ministero dell'Economia avvertono il pressing di una parte del PD, della Lega e dei sindacati è però fortissimo. Ieri anche Giuseppe Conte, di fatto già alla guida del Movimento 5 Stelle, si è associato a queste richieste. Forza Italia invece resta contraria ad ogni ipotesi di revisione degli accordi. La tragedia della funivia del Mottarone continua a far discutere la riassegnazione del procedimento sull'incidente a un nuovo giudice. La Camera Penale del Verbano ha chiesto con decisione l'intervento del CSM e del Ministero della Giustizia. La Procura ha presentato ricorso contro le scarcerazioni mentre si ipotizzano dissapori fra i magistrati. Diffuso l'audio della prima chiamata di soccorso. L'arresto dell'avvocato Pietro Amara, protagonista della vicenda della cosiddetta loggia Ungheria al CSM illegale, è stato arrestato nell'inchiesta sull'ex Ilva della Procura di Potenza, che ha stabilito anche l'obbligo di dimora per Carlo Maria Capristo, ex procuratore di Taranto. Con lui Amara avrebbe avuto un accordo corruttivo con l'obiettivo di fargli assegnare del CSM posti direttivi di suo interesse. Continuano a diminuire i numeri dell'epidemia in Italia. Oggi meno di 1900 nuovi casi e tasso di positività allo 0,8% per la prima volta quest'anno. Le vittime restano però ancora tante, 102, ma le buone notizie vengono dagli ospedali. Sentiamo. La conferma dell'efficacia dei vaccini arriva proprio dagli ospedali con i reparti Covid e le terapie intensive che si svuotano. Prosegue la lenta discesa dei numeri del contagio e si avvicina ritorno alla normalità. I nuovi casi di coronavirus oggi sono poco meno di 1900 a fronte di oltre 220.000 tamponi esaminati, con un crollo significativo dell'indice di positività allo 0,8%. Dopo mesi quindi scende sotto l'1%. Aumentano però i decessi, 102, ieri 65, ma è probabile che vengano contabilizzate solo oggi le morti avvenute nel fine settimana. Calano i pazienti in terapia intensiva, quasi 700 in tutto, 71 e meno di ieri e nei reparti ordinari ci sono meno di 5.000 positivi, 225 dimessi oggi. Prosegue veloce la campagna di vaccinazione che sta per raggiungere quota 40 milioni di somministrazioni, con oltre 13 milioni di persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione. Tra qualche giorno si potrà scegliere la data del richiamo con un minimo di elasticità per scongiurare un rallentamento in estate. Ci si potrà vaccinare nel luogo di vacanza solo in caso di soggiorni lunghi. Vicino infine l'atteso accordo sulle discoteche. Si pensa di ripartire con il ballo a luglio in zona bianca con il Green Pass, ma con capienza ridotta per i locali al chiuso. Ed ora la vicenda di Saman, la giovane pakistana che sarebbe stata uccisa dallo zio perché non accettava un matrimonio combinato. Gli inquirenti sono sempre più sicuri che sia stata assassinata. I genitori di Saman sono tornati in Pakistan in un distretto del Punjabi. Il loro avvocato d'ufficio non è ancora riuscito a contattarli. Lo zio e un cugino sono ricercati in tutta Europa. Un altro cugino sta per essere estradato in Italia dalla Francia. Potrà dare indicazioni su dove è sepolta Saman. Ci sarebbe stato anche lui la sera prima a scavare la fossa. Oggi intanto sono proseguite le ricerche della giovane scomparsa il 30 aprile da Novellara nel Reggiano. È stato arrestato l'uomo che oggi ha colpito con uno schiaffo il presidente francese Macron, che si era avvicinato alla folla durante una visita nel sud-est della Francia. L'uomo che ha gridato slogan monarchici è considerato vicino ai gilet gialli, con lui fermata un'altra persona. Sentiamo. Non è la prima aggressione nella storia dei presidenti francesi, ma l'episodio successo oggi pomeriggio ha comunque dell'incredibile. Emmanuel Macroni, in visita del dipartimento della Drôme nel sud della Francia, lascia il liceo alberghiero, ma prima di salire in auto decide di fermarsi per andare a salutare una piccola folla di cittadini. Si avvicina uno di loro, dà una pacca sul braccio in segno di amicizia, ma quello che riceve in cambio è un sonoro schiaffo in piena faccia. Neanche il tempo di realizzare che quello che sta succedendo ha dell'incredibile che la scorta del presidente si scaraventa contro il ragazzo, poco dopo verrà arrestato. Il ragazzo in questione si chiama Damien, ha 28 anni ed è vicino ai gilet gialli, il movimento che ha messo a ferro e fuoco la Francia nel 2018, con proteste contro le misure politico-sociali ed economiche imposte proprio dal capo dello Stato. Insieme a Damien viene arrestato un altro ragazzo, coetaneo, anche lui incensurato e originario del comune di San Vallier, ora rischiano tre anni di carcere e 45 mila euro di multa. Va tutto bene, ha voluto minimizzare Macron poco dopo, bisogna relativizzare questo incidente, si tratta di un fatto isolato, non permettiamo che individui ultraviolenti si impossessino del dibattito politico, non lo meritano. Condanne unanimi e solidarietà al presidente sono arrivate da tutto il mondo politico, da Luc Melanchon a capo della sinistra radicale, solidarietà al presidente, ora cominciate a capire che i violenti passano all'azione. Tuita anche Marine Le Pen, se il dibattito democratico può essere aspro, non si dovrebbe in nessun caso tollerare la violenza fisica. È tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.